Bella a tutti ragazzi, io sono Gabri Toys e oggi siamo in un nuovo video Andiamo via, scappiamo di casa Allora ragazzi, come saprete Io Sono il cugino di Antonio No, non lo sapete, quindi l'avete già sentito ora Io sono il cugino di Antonio e quindi Oggi lui mi porterà Da un altro mio cugino, Daniele E quindi C'è un vlog E quindi un vlog da fare E però Se guardate c'è Xbox Un cugino Xbox Quindi Ragazzi Io che vi devo dire Secondo voi sarebbe bello Guardate A loro Aspetta Dov'è in sala Aiuto gente Aiuto gente Lui è grande Quindi Ragazzi ho provato di mangiare La gente Non a voi Non a voi A loro Quindi Ragazzi Ora facciamo una bella cosa Ecco Si apre Bene Ok Siamo sul balcone Di casa mia Cioè non è casa mia E io devo andare in bagno Quindi ragazzi Scusatemi Ma devo andare in bagno A poco gente Ciao ciao Aspettate Aspettate Sam 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 è il cane mio E se è il cane di mia monna Aca Deve Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.